Enrico Diamantini, partita sofferta, esito negativo, però si può ripartire dal fatto che anche stavolta abbiamo dimostrato in situazione emergenziale di stare in partita? Sì, siamo un po' in emergenza, siamo riusciti a rimanere in partita, peccato perché il primo set l'avevamo recuperato e anche quest'ultimo punto a punto, peccato per il risultato negativo come hai detto te. Ora abbiamo un'altra settimana e poi dobbiamo andare su Aravenna e cercheremo di riscattarci e provarci. Una buona prestazione personale per te, se dobbiamo analizzare i singoli, 12 punti, bene a muro, diciamo che forse come ha detto il mister è mancato quel pizzico non tanto di lucidità ma forse anche di fortuna nelle fasi finali è del primo e del quarto set, proprio ai vantaggi. Eh sì, sì, per intanto lì è la questione di un punto, quindi pizzico o di fortuna o di lucidità su una palla e fa la differenza e poi dopo sconfitta o vittoria. Ora gara due. Eh ora andiamo su, come dicevo prima, ci proveremo, non so se da loro rientrerà spirito, però hanno giocato bene anche con Leoni, quindi non sarà facile lo stesso. Grazie Enrico, in bocca al lupo per la ripresa degli allenamenti. Crepi, grazie. Ciao.